Derenzo è probabilissimo che abbia questa... Probabile! Infatti secondo me c'è la possibilità comunque di... Madonna mi sono bloccata! Ma a parte... Ma a parte... E ora? Come scendo? Ehi! Tre minuti tasti finché magari non riesco a vedere... Ho preso un trofeo! Come? Non lo so! E' incredibile questa cosa! Ma si è bloccato il gioco? No! Non posso più scendere! E' stata una bella live! Veramente intensa! No che c'entra! Lo riavvio! E' riavvio il gioco! Guarda! E' bloccato! Si è bloccato! Si è bloccato! Sono riuscita a buggare anche questo gioco! Ti ho detto che li trovo tutti io i glitch! Ma stai premendo tutti i tasti? Stai provando? Si! Non riesco più a scendere! Ah! Sto morendo! Dai a Gigi! Lascia stare! E' bellissimo! Dammi qua! Non lascerai così! No no dai! Ricomincio il capitolo un attimo! Non lascerai così! E come faccio a scendere da qua? Non posso? No! Ah! Facciamo così! Facciamo così! No! Quit! Eeeh! 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 Non posso? Non posso fare niente! Fai vedere se posso fare qualcos'altro! No! Guarda! Eeeh! Proprio si è inceppato! Basta! Oh! Guarda! Sto sparando! Guarda che fa con la coda! Stai facendo delle scorreggie magiche! Vabbè! Comunque! Continua! Ok! No! Si è bloccato! Significa che non di tornare indietro! No! Gigi! Non è voluta questa cosa! Si è palesemente bloccato il gioco! Si è palesemente bloccato il gioco! Sì! Posso trovare qualcosa? Gigi! Si è zitto! Passa! Ricomincio il... Grazie!